La casetta di Orsetto Rosso Un giorno Orsetto Rosso disse Sono stanco di vivere nella caverna, voglio abitare nel bosco e così attraversò il ruscello saltellando sui sassi Arrivò al bosco e incontrò Daniele lo scoiattolo che stava raccogliendo le noci che gli disse Vuoi costruire una casa vicino alla mia? Orsetto Rosso era entusiasta Lavorarono tutto il giorno e al tramonto la casa di Orsetto Rosso era pronta Accesero un falò e invitarono tutti gli amici del bosco mostrando loro la casetta di Orsetto Rosso Orsetto Rosso si addormentò felice nel suo nuovo letto di muschio e le stelle brillavano sopra di lui